Ultimo atto per la regular season della Samsung Galaxy Volley K2 e trasferta insidiosa per il Volley Soverato che farà visita alla Chieri con l'obiettivo di chiudere bene questa stagione regolare che oltre a vedere il Soverato già qualificato per i playoff potrebbe però dare un'ulteriore soddisfazione perché vincendosi potrebbe migliorare ulteriormente la classifica. Sì è una partita molto importante come hai detto giustamente già siamo i playoff perciò un risultato acquisito e questo dobbiamo fare un grande applauso a queste ragazze perché quest'anno l'abbiamo visto tutti non era facile entrare nel playoff. Adesso abbiamo quest'ulteriore possibilità perché vincendo la partita c'è la possibilità anche di arrivare al quinto posto perciò ce la giochiamo e poi vedremo a fine gara quale sarà la nostra posizione. Ecco ci saranno i playoff che come dicono tutti è un altro mini campionato con sensazioni diverse, emozioni diverse, strategie di gara diverse perché sappiamo essere un campionato a sé stante. Siamo alla fine della regular season allora con coach Barbieri tracciamo anche un bilancio di questa stagione almeno per quanto riguarda la regular season. Soverato che è partito bene, è stato nelle primissime posizioni nei primi due mesi, poi ha avuto un calo che praticamente non ha permesso alla squadra di rimanere in vetta, poi c'è stata una ripresa, poi un altro piccolo calo, poi questo rush finale di campionato increscendo. Possiamo dire che è stata una stagione almeno dal punto di vista dei risultati un po' altalenante. Sì diciamo che non abbiamo avuto una costanza dei risultati però l'obiettivo era quello di arrivare ai playoff e penso che sia stato centrato perciò non conta quando, come si vince ma conta il risultato finale. Parziale, parliamo sempre di questo risultato che secondo me rimane un ottimo risultato, quello che c'eravamo prefissi con la società, con tutti poi è vero che siamo stati un po' altalenanti. Però se andiamo a vedere i risultati nella fase diciamo nel giorno di ritorno siamo andati increscendo, abbiamo fatto qualche punto in più. Perciò noi siamo fiduciosi di essere playoff. Playoff non è un ternalotto, i playoff sono comunque partite dove la tensione è più alta perché alcune partite possono essere veramente decisive. Perciò non è che cambia moltissimo, cambia solo questo aspetto qua emotivo e noi pensiamo di aver lavorato bene e di essere pronti per giocare nel migliore dei modi. Per chiudere il discorso sulla stagione regolare che volge al termine domenica prossima con l'ultima giornata, un giudizio di coach Barbieri nel complesso su questo campionato? Che sapevamo già da calendario sarebbe stato un calendario molto intenso e faticoso, così è stato anche poi sul campo un campionato avvincente perché ancora l'ultima giornata si deve decretare chi otterrà la promozione diretta. Per quanto riguarda la complessità delle partite questo si sapeva e sapevamo anche dal inizio perché tutti si lamentano ma se guardiamo la geografia del campionato si capisce quali sono le squadre che veramente hanno delle trasferte infinite e è innegabile dirlo che sono quelle del sud. Per quanto riguarda il campionato si era detto che sarà stato un campionato vincente, equilibrato così è stato, tanto è vero che manca ancora una giornata e non si è ancora deciso chi lo vincerà anche se un'idea ce l'abbiamo. Però non dico niente perché ho tanti amici dove secondo me vincevano il campionato perciò non lo diciamo. Però effettivamente i numeri dicono che ancora oggi c'è da decidere il primo posto e questo sta a significare quello che è l'equilibrio. Tornando infine alla partita di domenica prossima presentiamo questo avversario Chieri, domenica nel turno di Pasquette ha colto solo un punto nel derby in trasferta con Collegno. Collegno tra l'altro squadra in lotta per i playoff. Sarà una squadra un po' diversa rispetto a quella che avete affrontato all'andata e che vinse qui all'andata. C'è un innesto in più nel ruolo di centrale ed è una squadra che un po' come il Soverato ha avuto un andamento un po' altalenante. Sì sì anche loro forse sulla carta era una delle candidate forse insieme a Cuneo la prima candidata a vincere questo campionato. Al momento così non è stato però hanno ancora questa chance qua. Si sono ulteriormente rinforzati durante a gennaio, anzi a gennaio, un pochettino dopo con l'arrivo della centrale americana. C'è una squadra che era già forte prima, allora è altrettanto adesso però come abbiamo detto e come abbiamo fatto vedere più volte noi non ci sentiamo così inferiore a nessuno. Ecco. Grazie. 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 Grazie.